Come possiamo avere il controllo sul flusso dei contatti generati dal marketing che molto spesso devono poi andare a finire, a essere direzionati sul dipartimento commerciale all'interno della nostra azienda. Allora ragazzi, uno dei problemi, delle domande se vogliamo, che mi vengono spesso fatte è proprio come faccio ad avere il controllo sui contatti che generano dal marketing, perché ragazzi quando investiamo nel sistema di marketing non vogliamo che questi contatti vadano persi, soprattutto se poi abbiamo un dipartimento commerciale che deve essere abbinato al dipartimento marketing e quindi ci deve essere una linearità in questo percorso. Quindi c'è un flusso, il contatto entra dal nostro sistema di marketing, entra all'interno della nostra azienda, segue diversi percorsi, diversi step e poi deve arrivare al commerciale. Il commerciale deve avere tutto sotto controllo, cioè deve sapere quali sono i contatti arrivati, non dobbiamo avere perdita di contatti e noi da imprenditori dobbiamo avere un po' il controllo di questa situazione. Quindi come possiamo costruire un sistema di flusso per avere il controllo totale? Allora passiamo alla lavagna. Allora vi disegno un po' quello che è lo schema del flusso dei nostri contatti, quindi ipotizziamo di avere praticamente da questa parte il marketing. Qui a sinistra abbiamo il marketing e i nostri contatti devono andare a finire sul commerciale, quindi uno o più commerciali, dipartimenti commerciali e così via. Il marketing come è fatto? Abbiamo qui praticamente almeno uno o due, ipotizziamo di avere tre funnel diversi, quindi questi sono i nostri funnel, ok? Io li chiamo request type, quindi tipologie di attività che le persone fanno all'interno del funnel, quindi io posso fare opt-in, posso fare una richiesta completa, quindi magari chiedono una consulenza gratuita o posso fare un acquisto. Quindi ipotizziamo di avere tre tipologie di richieste request type, chiamiamole così, x, y e z. Dopodiché abbiamo diversi commerciali o dipartimenti commerciali e quindi qua sui commerciali mettiamo A, B o C. Adesso ragazzi dobbiamo andare a creare una sorta di regole per definire, per regolare questo flusso e fare in modo che tutto quanto si incastri nella maniera giusta. Quindi facciamo un esempio, io dal funnel numero 1 genero la richiesta X, che potrebbe essere una opt-in e io so che tutte le richieste di tipo X devo mandarle al dipartimento commerciale B, ok? E quindi mi vale a creare questa sorta di regoletta. Dopodiché che succede? Funnel numero 2, anche questo mi genera richieste di tipo X e quindi anche questo deve andare a finire sul dipartimento B. Poi abbiamo il funnel numero 3 che mi genera richieste di tipo Z e la richiesta di tipo Z per qualche motivo mi deve andare a finire su due commerciali, quindi commerciale A e commerciale C. Quindi ragazzi questo è uno scenario di esempio ma vi assicuro molto comune quando abbiamo un sistema di marketing che si rispetti nel senso dove abbiamo più funnel, più attività all'interno del funnel, persone che devono chiamare sulla base delle attività perché magari ho il funnel, faccio un esempio per il dimagrimento e ho un commerciale specializzato in quello, oppure un commerciale che gestisce solo le richieste di consulenza e non altre tipologie di richieste da parte degli utenti. Quindi fondamentalmente è importantissimo andare a creare questa regola. Come potete fare? Prendetevi magari un file Excel, buttate giù tutti quelli che sono i vostri funnel, tutte quelle che sono le request type, le tipologie di attività che possono essere fatte all'interno dei funnel anche sulla base di prodotti diversi, quindi magari posso avere due opt-in ma per due prodotti diversi e poi i commerciali o dipartimento commerciale. Questo ragazzi è come dobbiamo segmentare, cioè le regole che dobbiamo creare per avere il controllo del flusso dei contatti e questo ci aiuterà ad evitare di sprecare tutti magari quei contatti che non vengono gestiti perché noi da imprenditori ragazzi dobbiamo avere la visione di insieme, quindi come al solito prima si parte dalla strategia e poi si va a finire sulla tattica. Questo è lo schema di regole da creare per controllare il flusso dei nostri contatti. Il modo migliore per avere successo nella tua vita è avere costanza ed agire. Per questo ti invito a seguirmi sui miei canali proprio perché condividi i miei pensieri e le mie esperienze che ti aiuteranno a sviluppare la tua strategia di funnel marketing e la tua attività in modo pratico. Grazie per avermi seguito e alla prossima!